Grazie a tutti. E differenza, diversità, identità o identicità. Rivalità è un termine di uso comune che viene subito inteso come conflitto. I rivali sono in conflitto. Però basta fare un'operazione, diciamo, di immaginazione mentale per scoprire delle cose che sono non proprio banali. Quindi, nel termine rivale c'è ovviamente il termine riva. E simile a rivale c'è il termine rivielasco. Allora, immaginiamo che cos'è un rivale. Intanto non è mai uno, sono almeno due. Uno da una parte della riva e l'altro dall'altra parte della riva. Di solito sono due gruppi. A questo punto la rivalità comincia ad essere più complessa. Perché occorre dire che la rivalità è vicinanza. Vicinanza separata. E in ogni caso vicinanza. Cosa fanno due gruppi rivali? Figuriamoci lì, appunto, sulle due opposte rive di un fiume. Si guardano. Ogni tanto si prendono anche a botte. Fanno la guerra. Sono incursioni, furti. Ma soprattutto si guardano. Allora, forse, nel termine rivale, non c'è solo e probabilmente neppure e soprattutto il conflitto. O non in primo luogo il conflitto. Ma in primo luogo c'è questo starsi di fronte. Questo scrutarsi. E mi vende a dire questo specchiarsi. Essendo questa una terra del Po, insomma, diciamo in senso ampio perché il Po è più a nord, ma in ogni caso questa è la cultura del Po. Il Po, di qua o di là, ha due culture che si somigliano molto. Io sono lombardo, non del Po, però io conosco Cremona. Come faccio? Io che sono di Milano non riesco a distinguere un cremonese da un piacentino. Voi direte, ma perché è colpa tua? Perché voi siete rivali. Perché voi tendete ad amplificare, o i piacentini o i cremonesi, ad amplificare le differenze, o meglio, le diversità, come poi dirò. Ma per un occhio estraneo, beh, di qua o di là dal Po, la cosa sorprendente è la somiglianza. Allora, sono due le cose che ci sorprendono. La somiglianza e il fatto che in presenza di somiglianza ci sia conflitto. La rivalità è una cosa complessa. Allora, rimaniamo a questa immagine. In presenza di somiglianza c'è un conflitto particolarmente violento. Vi posso dire, quando due fratelli litigano, litigano, beh, la loro lite è tragica. Se uno dei due litiga con un estraneo, il litigio può essere contenuto. Addirittura si può ricomporre. E invece, e spero che nessuno di voi abbia avuto questa esperienza, però è un'esperienza abbastanza comune, un litigio con un congiunto, e qual è il congiunto più congiunto di un fratello? Beh, quello può durare anni e può non rientrare. Eppure i due fratelli sono, noi sponiamo che siano, simili. Certamente sono vicinissimi. Allora, questa questione del conflitto particolarmente violento che esplode quando si è in presenza di un rapporto stretto, se ne è posto un grandissimo sociologo, filosofo, insomma un grandissimo uomo, che si chiama Simmel, all'inizio del secolo scorso. E, parlando di questo fatto sorprendente, indica uno schema di ragionamento molto semplice che io qui vi voglio indicare. Allora, qual è un esempio di conflitto tra vicini, tra simili, che tutti conosciamo? La gelosia. Schematizziamo, lo fa Simmel, lo possiamo fare anche noi. A possiede B, scusate questo termine immediato e diretto. crede di poter vantare diritti su B. A ama B. Fin qui tutto a posto. C pretende a sua volta di avere diritti su B. Vorrebbe possedere B. Questo è il caso classico della gelosia. A è geloso di C. appena lo incontra gli si scarica addosso e cerca di levarselo di torno. Tutto normalissimo, non c'è niente che ci sorprenda. Facciamo un'altra ipotesi. A possiede B. C vorrebbe B. Ma non ce l'ha. È il contrario del caso di prima. In questo caso C è invidioso di A. Anche questo è tutto normale. C'è però un terzo caso che noi conosciamo benissimo. Chiunque abbia avuto bambini, figli, lo conosce in questo caso. Però non si sa come. Ce lo leviamo di testa. Ci sembra che non sia importante. Il caso è questo. Ad A di B non interessa nulla. Ma vi dirò di più. A, C, D, B non interessa nulla. Però B è lì a disposizione. A e C sono compresenti. A vuole B, C vuole B. È il caso di un giocattolo che un bambino lascia in un angolo. Non lo vuole. Appena entra nella stessa stanza un altro bambino e questo sicuramente l'avete visto immediatamente i due si avventano sul giocattolo. E qual è il risultato? Possono anche distruggerlo. Allora, A non ha alcun interesse per B. C non ha alcun interesse per B. Però i due sono compresenti. C'è B. Ognuno dei due vuole B. e arrivano a distruggerlo. Se lo contendono. Bene, questo tipo particolare di relazione conflittuale la chiamiamo dispetto. Per dispetto lo voglio. Lo voglio così per dispetto che piuttosto che darlo a te lo distruggo. C'è quel racconto molto conosciuto delle due madri con il re Salomone. Due madri partoriscono ad una il bambino muore di notte questa sottrae il bambino vivo e sostiene che sia suo figlio. La questione viene portata davanti al re Salomone Salomone quando il quale essendo appunto salomonico dice, beh, qui non si riesce a capire di chi sia. Allora che sia tagliato in due il bambino. La madre vera dice no. La madre falsa a cui del bambino non interessa nulla dice va bene. Questo è il dispetto. Non interessa affatto che l'oggetto viva piuttosto che darlo a te io lo distruggo. abbiamo trovato un desiderio stranissimo. Se io desidero un oggetto beh, sono interessato a quell'oggetto. Così noi pensiamo. A parte poi il fatto che ogni volta che raggiungiamo l'oggetto del desiderio improvvisamente constatiamo che non lo desideriamo mica più tanto come prima. Nelle relazioni amorose è evidentissimo ma in ogni altra relazione. Ma a parte questo noi immaginiamo che un desiderio senza oggetto non abbia senso. Invece abbiamo trovato un desiderio potente che fonda conflitti nel quale l'oggetto è del tutto tra parentesi. A vuole B perché lo vuole C. il mio sospetto è che ha non voglia B ma voglia essere scusate ma voglia essere C voglia essere al suo posto. Simmel che era appunto un grandissimo anticipa di 60 anni di 60 anni la teoria di René Girard la teoria mimetica di René Girard Girard non lo ricorda mai forse non lo conosce è un grand'uomo Girard è un grandissimo ma se fosse qui forse si addonterebbe un po' perché il suo desiderio esploderebbe no no la teoria è mia è sua ma non è solo sua. Allora abbiamo questa cosa strana di un desiderio profondamente umano che tuttavia non è non ha misura non sono il mio desiderio non è misurato dall'oggetto del mio desiderio e allora qui siccome siamo in una festa di filosofia citiamo un filosofo di quelli veri Democrito un antico filosofo greco il quale in un libretto attribuito a Ippocrate ma non di Ippocrate al quale vengono messe in bocca parole che noi non sappiamo se siano davvero di Democrito ma che certamente ne riflettono il pensiero in questo libretto che si dite appunto il riso del riso della follia riso della follia non ricordo se è del riso della follia o il riso della follia si legge del Democrito che parla le bestie sanno accontentarsi di quel che dà loro soddisfazione il lupo quando ha divorato una preda si guarda dallo spingere oltre un'alimentazione necessaria ma l'uomo per giorni e notte consecutive non si stanca di godrovigliare e ancora in un testo proprio di Democrito non attribuito Democrito si legge l'uno l'animale quando ha bisogno sa la misura di ciò che gli bisogna l'altro l'uomo invece e non conosce la misura questa secondo me è una splendida definizione dell'animale uomo per arrivare a questo livello occorrerà nello sviluppo del pensiero occidentale aspettare Nietzsche io credo Hobbes forse ma insomma credo che sia sicuramente Nietzsche e più avanti uomini come Gelen Arnold Gelen che non conosce nessuno giustamente perché siccome è difficile questo è un tedesco che scrive in maniera difficile non lo conosce nessuno allora l'uomo è dismisura il lupo no il famoso motto obbesiano l'uomo homini lupus è un errore tragico il lupo non è affatto lupo al lupo il lupo ha con gli altri lupi una relazione del tutto ordinata non ci sbrana una vicenda hanno riti per dividersi la preda insomma sono gente civile i lupi diciamo uomo homini uomo molto meglio allora l'uomo è dismisura non ha un comportamento istintuale che lo radichi nel mondo meglio nell'ambiente in modo tale che possa sopravvivere soddisfacendo i suoi bisogni secondo necessità per dirla in soldoni ora non posso approfondire questa questione l'uomo è un animale venuto male l'uomo è l'animale venuto peggio disordinato e di fatti abbiamo dovuto inventare la cultura per dare un po' di ordine alla nostra vita l'ambiente non ci contiene abbiamo dovuto costruire un mondo con tutte le difficoltà perché il mondo rispetto all'ambiente è precario l'ambiente è ciò che vale per gli istinti dell'animale una mosca ha un ambiente un gatto ha un ambiente un leone ha un ambiente e in quegli ambienti riescono a sopravvivere l'uomo sta ovunque ma ovunque in maniera precaria ovunque bisogna di trasferire l'artificio perché altrimenti è dismisura è incommensurabile con i suoi stessi bisogni lasciato a sé in natura l'uomo muore nessuno di noi può essere catapultato nella foresta amazonica e sperare di sopravvivere per più di qualche ora non solo per la fame non solo per la fame eppure pigliate un vostro gatto se siete proprio così cattivi cadutatelo beh questo forse sopravvive anche se l'ambiente gli è ostile perché comunque ha degli istinti benissimo allora l'uomo è dismisura non ha misura possiamo anche dire che da questo punto di vista l'uomo è malato e di fatti Democrito sempre nel libro attribuito a Ippocrate dice noi siamo malattia siamo una tal malattia che portiamo morte in giro per il mondo uccidiamo i nostri fratelli però quando io dico l'uomo è malattia non sono solo pessimista sono realista e devo aggiungere essendo anche niciano non vorrei che nessuno si spaventasse sono niciano buono non si può essere niciani se non essendo buoni essendo niciano posso anche dire l'uomo è una malattia particolare come la gravidanza cioè dall'uomo può venire qualche cosa che prima non c'era e di fatti è venuto qualche cosa che prima non c'era la cultura ma addirittura può venire il sublime Leonardo da Vinci viene da questa malattia anche Adolf Hitler insomma ogni epoca quel che si merita potrei fare anche altri nomi più non mi costringete è come se l'avessi fatto ma come dice la Gelbini non possiamo fare politica è la politica che fa noi in senso pieno eh ma mi fermo qui sentito qualche malintioso che ha riso scusate rientro nei ranghi l'uomo è una malattia può essere una malattia come la gravidanza magnifica malattia perché dà vita produce vita oppure può essere una malattia mortale questa dismisura può andare in un senso o nell'altro purtroppo si nota che lasciato a sé l'uomo tende ad andare nella direzione della malattia mortale occorre avere molta buona volontà molto coraggio molta perseveranza per impedire che questo avvenga però insomma per questo siamo qui pieni di impegno allora tenuto conto di questo che l'uomo è inaffidabile che però può anche essere grandioso o terribile torniamo al nostro tema e torniamo a una espressione di Democrato che dice gli uomini si uccidono tra vicini tra fratelli rivaleggiando in odio siamo tornati alla rivalità dice tra fratelli rivaleggiando quindi è evidente che indica il tema che io sto cercando di sviluppare cioè il tema di un legame profondo che si capovolge in un conflitto terribile e torniamo a quella cosa di Simmel C desidera l'oggetto B posseduto da A solo in quanto lo possiede A i due sono disposti a distruggerlo io faccio un passo in là i due sono disposti a metterlo tra parentesi non conta se noi dovessimo esprimerlo graficamente tutto questo metteremmo l'espressione l'oggetto B posseduto da A tra parentesi togliamo la parentesi e cosa leggiamo C desidera A ma non nel senso di quello che dicevo prima della politica no no nel senso desidera l'essere di A voglio essere A io sto facendo un passo ulteriore rispetto a Simmel che scopre questa cosa poi fugge e qui ha ragione Girard quando qualcuno scopre questa cosa di solito scappa è spaventato e scappa è spaventato perché forse è arrivato vicino a una radice profonda del nostro essere uomini è una radice che non vogliamo ammettere allora C desidera A desidera essere A e A desidera essere C questo desiderio come si può esplicare qui andiamo direttamente a René Girard il quale dice beh tutto ciò che è è dominato dalla imitazione dalla mimesi il desiderio nasce dalla mimesi ora io qui potrei dire l'esatto contrario seguendo un'altra impostazione molto avvincente che è quella appunto della antropologia filosofica soprattutto di Gelen che invece capovolge dice no no non è la mimesi il desiderio che nasce dalla mimesi ma è la mimesi che nasce dal desiderio però voi credo non debba interessare granché questa contrapposizione seguiamo appunto quello che dice Girard secondo Girard che dal punto di vista filosofico è una frana proprio il suo sistema filosoficamente fa acqua da tutte le parti però ha avuto un'intuizione grandiosa dal punto di vista antropologico prima dal punto di vista letterario e poi dal punto di vista antropologico e cioè tutto ciò che vive non solo gli uomini è tenuto insieme dalla imitazione ora mi dicono che i neurofisiologi stanno confermando tutto questo ero martedì a un convegno a Parma e Gallese che è stato anche riconosciuto in America per i suoi studi sui neuroni a specchio dice qualcosa del genere c'è una imitazione reciproca tra gli uomini Girard dice tra tutti i viventi che ci tiene insieme da qui nasce la possibilità di avere gruppi gli animali questi gruppi ce li hanno e sono ordinati dagli istinti gli uomini no non abbiamo istinti o abbiamo istinti del tutto insufficiente siamo animali malati venuti male e allora gli uomini hanno questa tendenza di comune a tutti gli esseri viventi di guardarsi e imitarsi però non hanno una struttura istintiva istintuale sicura che eviti che questo guardare guardarsi e imitarsi porti al conflitto e perché dovrebbe portare al conflitto facciamo un esempio beh tanto l'abbiamo fatto prima quel giocattolo i due bambini facciamolo più cruento i bambini non producono gran danno solo perché sono deboli se fossero forti si ucciderebbero a vicenda io di questo sono certo avendo avuto una bambina piccola sono certo per fortuna non hanno dotazioni muscolari sufficienti allora pensiamo a due esseri umani adulti uno di fronte all'altro e c'è un pezzo di carne tutte e due lo vogliono il pezzo di carne avanzano la mano uno l'altro anche c'è un modo solo per prenderla questa carne tagliare la mano di quell'altro fin qui abbiamo parlato semplicemente di una mimesi di appropriazione e cioè nella quale l'oggetto ha valore ma pensiamo a un gruppo a un gruppo umano di pre-ominidi che stanno insieme tenuti insieme dalla mimesi però ogni tanto esplode il gruppo perché la mimesi non è regolata dal conché o comunque da istinti insufficienti periodicamente qualcuno guarderà il capo per esempio e penserà levati di lì che mi ci metto io voglio essere te Girard dice ogni essere umano vive se stesso come mancanza d'essere è un francese quindi bisogna di usare queste belle espressioni usiamola mancanza d'essere cioè io sono insoddisfatto no non sono pieno di me non sono un lupo che vede nel suo ruolo nel gruppo la pianetta di sé sono dismisura vedo quell'altro che è più in vista di me è il capo voglio essere lui e c'è un solo modo per essere lui e farlo fuori chi fa politica credo non abbia dubbi sulla questione per essere l'altro bisogna far fuori l'altro tutto finirebbe qui se anche l'altro non fosse come questo qua anche lui quando si vede affrontato da qualcuno immagina che questo qualcuno abbia una pienezza d'essere che lui non ha c'è un conflitto attorno a questo conflitto come fosse una reazione anatomica esplodono altri conflitti perché chiunque altro del gruppo vuole essere quello che ai suoi occhi ha pienezza d'essere risultato crisi mimetica ci si accapiglia ci si scontra ci si uccide ci si smembra ci si sbrana dovete prendere queste espressioni alla lettera non per modo di dire alla lettera non ci sono i carabinieri che fermano questi nostri antichi antichissimi antenati a un certo punto come nei film esternal italiana mi piace usare questa espressione meglio di quella della reazione a catena tutti sono in conflitto con tutti avete presente la scattrottatura tipica ma perché tutti non c'entrano beh forse dal punto di vista narrativo no ma dal punto di vista della teoria girardiana è una cosa di assoluta fondatezza il gruppo è squassato da una crisi che può farlo esplodere per fortuna ci scappa il morto qualcuno su cui per un motivo o per l'altro perché è il capo o perché è il più debole si rivolgono agli occhi di tutti e a quel punto lo uccidono dovete immaginarlo nella polvere smembrato insanguinato e dovete immaginare gli occhi degli altri che lo vedono improvvisamente a loro sembra che non ci sia più motivo di scontrarsi perché quello che sta nella polvere è sicuramente quello che portava la colpa del conflitto io la faccio molto semplice ma non ho possibilità di essere più specifico questa cosa si ripete per decine centinaia di migliaia d'anni l'ominazione dura 5 milioni di anni per ora poi sembra chi lo sa se sono proprio 5 milioni allora immaginate per decine centinaia di migliaia d'anni dopo aver ucciso per un po' il gruppo torna in sé solo che riparte questo meccanismo finché e qui Gilar secondo me proprio non ha strumenti raffinati per niente però un genio non ha bisogno di avere strumenti raffinati perché ha avuto l'intuizione geniale dice che a un certo punto gli uomini capovolgono la causalità e cioè invece di aspettare che esploda la crisi mimetica di ammazzare qualcuno per tornare in ordine quando sentono arrivare la crisi mimetica prima che arrivi prendono uno e l'ammazzano nasce la civiltà umana nasce l'istituzione nasce il religioso nasce il capo espiatorio si prende qualcuno con certe caratteristiche che ricordi la vittima originaria e lo si fa fuori periodicamente e questo garantisce la società tutto ciò che è umano nasce da questo dice Girard che è un po' eccessivo però i geni non possono essere altro che eccessivi per nostra fortuna la cosa non resta lì si sviluppa e cioè al posto della vittima sacrificale viene man mano indicato qualche altra entità la vittima sacrificale è un terzo che non è pienamente nessuno di noi anche se ci somiglia e che è distinto da noi ora basta spostare questo criterio un terzo che sia distinto da noi verso situazioni meno cruente per rendere meno cruente la nostra società la nostra civiltà pian piano si arriva addirittura a stare insieme in nome di un simbolo in nome di un valore e addirittura siccome siamo molto fortunati inventiamo quella cosa che il dono più grande che ci siamo fatti che è il giudice che è terzo in maniera totale che è un terzo più affidabile del capo politico e lì dice Girard finalmente c'è la civiltà quindi tenete presente quando vi fanno fuori la magistratura torniamo a una situazione che è quella della possibilità dell'esplosione della violenza qui ve lo dico voi lo sapete fate voi allora la cosa che ci trae fuori dalla rivalità violenta cioè dalla vicinanza ecco dov'è la rivalità noi siamo simili noi vogliamo essere l'altro e quindi entriamo in conflitto la cosa che ci trae fuori è sorprendentemente un terzo astratto che può non esistere che può essere un concetto un concetto teorico niente di più e possiamo convivere torniamo a Simmel il quale non so se sarebbe d'accordo con me con l'uso che io ne faccio io comunque lo uso anche perché è morto non si può troviamo ad analizzare un gruppo umano così come viene fuori dalla storiella che vi ho raccontato beh c'è quello che io posso chiamare principio generale di eguaglianza che sia la vittima che sia un criterio un principio astratto principio generale di eguaglianza per esempio per fare la nazionalità siamo tutti italiani principio generale di eguaglianza questo principio generale è un principio terzo che non è identico a nessuno di noi che è fuori da noi che ci obbliga a volgere lo sguardo verso di lui e quindi a non guardarci più reciprocamente a non imitarci più a non entrare più in conflitto allora l'eguaglianza è questo in un gruppo tutti guardano verso quel principio generale di eguaglianza però poi si fa anche un'altra cosa e io qui di solito lo spiego con una immagine che mi sembra è banale scusate io non sono tra quei filosofi che amano non essere capiti io cerco di essere capito anche perché voglio capirmi io c'è la Trilussa che diceva scusate non sono romano per cui se c'è qualche romano mi perdoni si vuoi il rispetto dell'amichi non fai capì quello che dichi io invece cerco di capire io allora l'esempio è questo a Parigi c'è una barra di platino credo che è il metro è lì è astratta non lo sappiamo nemmeno più che c'è niente di naturale è tutto artificiale tutto artificiale abbiamo deciso che quello è un metro benissimo io che sono dal tetraduomo 1,67 di fianco a uno troppo alto ai miei occhi 1,90 però posso dire sono uguale a te perché sono uguale a te perché tu mi riconosci il diritto di misurarmi nella statura con quel metro là e io ti riconosco lo stesso diritto questo è il principio generale d'eguaglianza però poi ci misuriamo e accidenti lui è 1,90 io sono 1,97 e scusatevi questo lapsus voi sapete quanto questo influisca sulla nostra politica e non parlo di Brunetta anche per decenza ci misuriamo e salta fuori che lui era 90 e io 1,67 allora siamo differenti oh bella siamo uguali e differenti ma è questo ciò che è il cuore della nostra stare insieme non si è differenti se non si è uguali l'eguaglianza è il presupposto della differenza noi da questo punto di vista in questa prospettiva filosofico-politica ottimistica siamo commisurazione la dimensione del nostro stare insieme è commisurabilità presenta ad un principio generale d'eguaglianza e riconoscimento reciproco di misurarsi rispetto a quel criterio generale il risultato è che ognuno ha i suoi ruoli io ho il ruolo di quello ad altetto ad uomo e lui ha il ruolo di quello alto trasferiamo questo nella società e allora ci sarà chi insegna l'università ci sarà chi fa la velina ognuno sceglie quel che vuole e lo può fare perché la sua differenza glielo consente e tutto questo non produce conflitto mimetico perché siamo commisurati c'è qualche cosa che ci dà differenza e contemporaneamente ci divide tu sei questo e non sei quest'altro scusate no? allora diciamo questo sistema che si sta delineando è un sistema splendidamente dinamico cioè nel quale il conflitto non è eliminato la rivalità è conflitto mimetico qui il conflitto non scompare diventa commisurazione i greci la chiamavano la buona iris l'invidia buona quella per cui il vasaio vede l'altro vasaio e si impegna a fare vasi migliori e succede che il vasaio in questo modo dica io sono un vasaio migliore di te ma prima ancora dice io sono un vasaio e cioè la differenza è la mia identità dunque abbiamo un sistema nel quale qualcosa rimane fermo il centro e tutto il resto cambia muta per via della buona iris per il fatto che continuamente ci commisuriamo la mia vita non è una fotografia è un film ed è un film perché mi commisuro continuamente e continuamente produco la mia differenza la mia biografia quando una società è così organizzata la società produce non solo quando una società è così organizzata non trova difficile fare entrare dentro i propri confini chi prima era fuori perché aggiunge un posto a tavola insomma siamo tutti differenti c'è posto per un'altra differenza ci sono difficoltà di tipo politico di tipo giuridico di tipo psicologico però si fa no io sono milanese quando Milano era una città civile così era così era si diceva Milano milanese è chi lavora a Milano quella è una società dove ognuno produce la sua biografia la propria differenza ma c'è di più se guardiamo all'esterno di questo gruppo ci sono altri gruppi con altri principi generale di guaglianza sono gruppi in movimento tutti quindi addirittura e io qui sono proprio ottimista fino all'estremo si può immaginare che la compresenza di più gruppi dinamici di questo tipo producano una più alta un più alto criterio generale di guaglianza e che il mondo non si faccia la guerra conflitto sempre buona eris sempre non sto descrivendovi la società in cui tutto va bene sempre la società della pace eterna la quale si trova solo nei cimiteri io personalmente non non ne ho una grande grande desiderio spero di arrivarci tardi quindi questo è ciò che potremmo essere se continuassimo a svilupparci in questa direzione io arrivo a dire che questa è la forma della libertà quella vera quella vera quella non usurpata con gli slogan politici che cos'è la libertà beh la libertà è la mia possibilità di cambiare la mia possibilità di costruirmi la vita differentemente da come sono cioè di essere differente dalla mia differenza la libertà è la possibilità di dire beh io non mi riconosco più in questo principio generale dell'eguaglianza perché ce ne sono degli altri preferisco quello tu mi dai un comando un ordine beh io non ti obbedisco perché preferisco appartenere a quell'altro gruppo questa è la libertà non non avere determinazioni come dice Simmel ma avere una pluralità una pluralità di appartenenza in un sistema in un mondo che sia una somma di gruppi differenziati da un principio generale dell'eguaglianza superiore beh è possibile essere liberi poi nascono ci sono ancora problemi restano problemi della giustizia e tutto quello che gli viene dietro però abbiamo fatto un bel passo avanti un bel passo avanti io potrei dire questa è anche la laicità però andiamo fuori e purtroppo non è sempre così succede che ci siano in giro per il mondo quelli che io chiamo i semplificatori il sistema che vi ho descritto è complesso cioè ognuno dentro lì è responsabile di sé e della propria differenza il vasaio si alza la mattina e deve produrre un vaso più bello di quell'altro vasaio e non è sempre possibile si fa fatica la vita è complessa bene ogni tanto salta su qualcuno e dice ma non è vero che è complessa ma io so come potrebbe essere più semplice il semplificatore dice il mondo è bianco o è nero e sicuramente i neri sono fuori noi siamo i bianchi non sono i neri e aggiunge noi staremmo benissimo se fossimo noi il fatto è che ci sono gli altri che ci inquinano noi siamo questa cosa qui noi siamo adesso non vorrei dopo non mi pagano più perché vengono gli esempi ma li fate voi insomma pensate voi al nostro quadro politico c'è qualcuno che dice beh la nostra identità è questa qui tenete presente che ho detto l'identità è la mia differenza sono tante identità no no la nostra identità è questa qui ci sono delle radici come dice l'arcivescovo di Milano Dio non ci giudica dalle radici ma dai frutti Milano con gli arcivescovi è fortunato allora noi abbiamo delle radici e quelle radici ci garantiscono e che poi arrivano questi qui ce le tagliano detto in termini simmeliani noi abbiamo un principio generale d'eguaglianza che è il perfetto meglio di così non è possibile perché tutti voi diviate meglio perché non abbiate crisi economiche perché non abbiate paura eccetera eccetera ma è semplice tutti dovete essere così avete notato che cosa è successo che il terzo fuori il principio che dovrebbe essere terzo non è più fuori è portato dentro a tal punto che ognuno deve essere quella cosa lì ecco il punto che la differenza che fine fa ma non c'è più nessuna differenza io devo mangiare polenta se per caso dico ma c'è anche il kebab no il kebab no allora io non più il metro di Parigi ma il metro di quel delinquente di Procuste voi sapete chi era Procuste era un un delinquente che secondo il mito stava sulla strada tra Megale e Atene baltrava addosso ai viaggiatori li portava nella sua spelonca dove c'erano due letti uno lungo e uno corto se il prigioniero era lungo lo metteva su quello corto e lo tirava se scusa e lo tagliava se invece il prigioniero era corto lo metteva su quello lungo e lo tirava ecco diciamo che il criterio generale di guaglianza di questa gente è il letto di Procuste è la razza di Hitler il quale notoriamente era alto biondo con gli occhi azzurri Goebbels era uno splendido ariano Martin Bormann slaggiato eppure questi Procuste tagliavano e allungavano perché Procuste è lui che determina il principio generale di guagliante allora non c'è più alcuna differente io come te tu come me siamo indifferenteati ma se siamo indifferenteati siamo sovrapponibili cioè si torna terribilmente alla rivalità conflittuale alla rivalità mimetica e alla violenza mimetica che vi ho indicato prima il totalitarismo perché è di questo che vi sto parlando e non pensiate che sia finito col secolo scorso lo totalitarismo è finito un tipo di totalitarismo noi oggi abbiamo un totalitarismo etnico e sacrificale che consiste in questo la mia etnia è quella giusta tutti devono essere come questa etnia indica e se lo sono io aggiungo tutti sono indifferenziati io sono simile a te che sei simile a me ma non siamo nel caso dei due bambini con il giocattolo certo che lo siamo i semplificatori per semplificare ci tolgono tutto il nostro bagaglio civile e soprattutto ci tolgono la magistratura quello lì non c'è dubbio perché la magistratura è ciò che tutela le nostre differenti e quindi sono esposti questi gruppi al pericolo dell'esplosione del conflitto interno tutto ciò che sta fuori da questa commisurazione totale è diverso non differente è diverso noi siamo indifferenti all'interno del gruppo tutto ciò che sta fuori è diverso e la mia identità di me che sono in quel gruppo ma non c'è più c'è identità del gruppo io sono un identico allora l'identità viene trasstituita da quello che io chiamo identicità avete presente i manifesti totalitari sia nazisti che stalinisti che fascisti quando si rappresenta un uomo o una donna in un manifesto o in un disegno i tratti sono scarnificati sono tutti uguali ma nel senso di tutti sovrapponibili leggete un libro rivelatore di Hans Jünger l'operaio beh Jünger lo teorizza tutto questo la vita deve essere spazzata via tutto ciò che è individuale via deve rimanere il tipo ma perché il tipo consiste in un gruppo e non esploda nel conflitto sociale beh bisogna tornare a fare quello che Girard ci dice che abbiamo fatto in epoca arcaica e abbiamo continuato a fare fino a oggi però vergognandocene nei totalitarismi non ci si vergogna più cioè si uccide il totalitarismo che io chiamo sacrificale perché quello di oggi è sacrificale e il suo modello è quello nazista qui sono disposto ad affrontare qualunque confronto eh non è il modello stalinista il quale era l'attrista come momento accessorio non come momento fondante allora il totalitarismo sacrificale è ho perso il filo ho perso il filo cosa stavo dicendo non si sa nel totalitarismo eh che io chiamo sacrificale eh si uccide e quindi il diverso è necessario a questo tipo di convivenza politica perché è il diverso che diventa vittima il diverso in realtà non essendo differente da me scusate non è un gioco di parole è simile a me cioè il diverso è rivale io voglio essere lui e immagino che lui voglia essere me è un paradosso ma la filosofia è piena di paradossi la filosofia politica ancora di più allora il diverso mi è necessario a me gruppo totalitario sacrificale perché se no chi uccido uccido uno di noi esplode il gruppo certo c'è sempre il nemico interno questo è una risorsa mica da poco però col nemico interno si gioca col fuoco perché c'è la guerra civile meglio andare a pescarli fuori tra le diversità il diverso è tale perché è non differente da me perché è simile a me perché mi somiglia al nostro interno noi siamo indifferenti ma lo siamo anche all'esterno noi siamo indifferenti rispetto al suo dolore non è nemmeno un uomo la nostra indifferenza interna è quella che vi dicevo prima cioè c'è il pericolo che noi confliggiamo dunque ogni totalitarismo diventa un totalitarismo che ha bisogno di vittime e in questo senso anche quello staliniano pur non essendo partito da presupposti eratristici di espulsione sulla base biologica e nemmeno culturale tuttavia deve arrivare lì perché la gente non sta insieme se è troppo simile deve vedere teste tagliate questo è terribile so che non mi credete o che mi credete qua uscendo direte ma quello è matto vi prego ragionateci su pensateci forse è proprio così non c'è identità in questo gruppo ma c'è solo morte e c'è morte che chiama morte perché più si uccide più si dà l'impressione che la morte sia lì e più il pubblico che vede uccidere vuole vedere uccidere non è che una dittatura totalitaria comincia uccidendo e può smettere di uccidere deve continuare talvolta non uccide più fisicamente ma deve uccidere in qualche altro modo perché ne ha bisogno il risultato è la chiusura del gruppo il gruppo dovrebbe essere semplificato e invece è morto non c'è più la buona eris non c'è più il vasaio che imita l'altro vasaio c'è il trionfo di quello che Simmel chiama dispetto piuttosto che condividere con te qualcosa io la distruggo voi direte ma quando mai succede nel nostro paese volete un esempio prendiamo l'esempio delle badanti banalissimo banalissimo il nostro interesse il nostro desiderio sociale sarebbe stato di consentire a queste signore di essere regolarizzate voi dite un desiderio egoistico ma a me non interessa sulla base di una conflittualità sacrificale si è fatta una legge che avrebbe rischiato di non consentire alle badanti di essere regolarizzate poi hanno cambiato un po' la legge ma il risultato è quello perché le badanti si sono spaventate voi forse avete letto che questa regolarizzazione non è andata in porto come mai perché abbiamo fatto la voce la voce grossa non ci interessava difendere il nostro interesse ci interessava dare un segnale di morte che consentisse di raccogliere consenso voi direte ma questo dalla filosofia è crollato alla cronaca politica e io altrimenti perché sono filosofo per questo vi stupisce io non mi stupisco per me è la passione del contingente che mi spinge a pensare e quando trovo che i miei pensieri si rispecchiano nella terribilità delle relazioni politiche me le dispiace molto ma un po' sono contento perché noi filosofi siamo dei cinici e qui ho finito